Qui tocchiamo altre questioni che secondo me potrebbero essere cruciali e mi stupisco anzi che tutto sommato non facciano parte del dibattito pubblico, nonostante la loro centralità. Io sono convinto per esempio che se si cominciasse ad affermare, faccio un esempio che però mi sembra interessante, che i principi fondamentali contenuti nella Carta Europea dei Diritti debbano costituire una fonte normativa e costituzionale primaria e che debbano quindi non soltanto orientare come criterio interpretativo il giudice nazionale, ma debbano essere proprio cogenti ed applicabili direttamente, io credo che già questa possa essere una buona strada. Se noi potessimo immaginare per esempio come altro rimedio il fatto che finalmente le opposizioni o anche dei soggetti qualificati possano adire direttamente alla Corte Costituzionale, così come avviene anche in altri paesi, penso alla Germania, Io credo che questo tipo di deterrenti potrebbe in qualche misura evitare il proliferare dei disastri, perché potrebbe introdurre delle remore in alcuni di questi soggetti che sinora hanno agito indisturbati, perché alla fine un Parlamento sostanzialmente di nominati, addirittura la riforma del Senato vorrebbe aggiungere ad un Parlamento di nominati di nominati, cioè un Parlamento di nominati di nominati, quindi di nominati di secondo livello, è chiaro voglio dire insomma che è totalmente privo di un'autonomia politica effettiva, per cui in termini pratici questo tipo di norme e di discipline di favore che si sono inseguite nel corso degli anni sono sempre state decise in delle cerchie oligarchiche ristrette, espropriando quindi il Parlamento che a sua volta era stato espropriato nella sua intima struttura da leggi elettorali che appunto hanno sostanzialmente introdotto delle cooptazioni di massa, cooptazioni di massa le quali avvenivano in larga misura, fatte debita e eccezioni, avendone come contropartita il silenzio.